Due possibilità, una lasciare libertà all'allenatore del settore giovenile per fare il suo modulo, l'altra tutte le squadre con il stesso modulo, dico è una buona domanda perché non è una domanda di un tifosi, è una domanda di un professionista, sembra che tu sarai un calciatore o un allenatore, vediamo. La seconda squadra almeno deve fare, è buono si fa il stesso modulo, così si vuole prendere un giocatore giovane e presto è a punto, è meglio farlo così e l'altra è lasciare il talento dei giocatori in campo, non dirle che deve fare questo, questo, un po' di libertà per loro.